Non era così scontato chiudere il sesto posto a fine del girone d'andata, è vero anche che la classifica è molto corta perché a 14 punti ci sono tante squadre, comunque sono a 2-4 punti da noi e quindi da sesta puoi passare a tredicesima in 4 punti. Però al di là di quello noi come hai detto te sfruttiamo molto il vantaggio del fattore campo, ci dà una grande energia e facciamo più fatica in trasferta, anche se c'è da dire che in questo campionato in trasferta tante squadre stanno subendo. Si vince poco, il fattore campo è importante un po' ovunque, Pesaro è una situazione abbastanza strana, non ha ancora vinto una partita, è in striscia negativa da tante settimane, però non bisogna fare l'errore di sottovalutarla, cosa che noi non vogliamo assolutamente fare, tant'è che noi facciamo il nostro percorso, il nostro cammino e non ci facciamo influenzare dall'avversario che dobbiamo affrontare nel weekend.